Ciao ragaz, intro molto veloce, visto che sono un cretino e all'interno di questo video ho fatto tutto, ho fatto tutto, ho fatto tutto bene, ho fatto di tutto e non ho fatto l'intro Quindi la faccio adesso Bella ragaz, io sono Adder Oppure Dalle albori, bella a tutti ragazzi, io sono Adder, 500 dimmi un po' che caso vuoi, oggi siamo in un nuovo video Non serviva E in questo video spiegherò cose Spiegherò il perché non ho fatto video per due mesi, a parte il video che è uscito ieri E basta, spero, spero vi piaccia il video E devo ancora editarlo, quindi non so quanto dura E sono due mesi che non faccio video Perché non faccio due mesi che io non faccio video? Comunque, sono due mesi perché non avevo, cioè non è che non avevo voglia, non avevo l'ispirazione Cioè non sapevo cosa fare, sinceramente Sono morto Questo era un, volevo fare un video spiegazione Tre virgolette Però non lo so se sarà un video di spiegazione oppure un test di vedere se riesco di nuovo a fare i video e quindi continuare eccetera Comunque, questo è un video di spiegazione, tra virgolette In cui Io parlo mentre c'ho il gameplay Sono Sono due mesi che non faccio video e l'ultimo video che ho fatto è stato il videone di un'ora di Dark Souls L'intera serie, tutta messa in uno, cosa è successo eccetera Quindi sì Questo, quello è stato l'ultimo video che ho fatto prima di bloccare, tra virgolette, tutto quanto Ho bloccato tutto quanto per sbaglio, cioè quasi per sbaglio perché non era voluto Cioè io Io la voglio editare di fare i video, ce l'ho La cosa che non so, la cosa è che non so cosa fare, che video, che videogiochi fare Infatti, cioè questo è un videogioco completamente preso a caso, terraria in questo server Così a caso preso qua per dare un po' di colore E basta, sono Sto cercando di trovare dei contenuti eccetera Comunque, fra un po' arriva agosto e quindi andrò in Serbia e lì avrò un po' di contenuti li avrò Infatti su internet ho trovato una roba per il telefono Perché io di spendere 1000 euro per una fotocamera, no Anche perché già la webcam Ho trovato per 20 euro neanche una cosa per il telefono Cioè è tipo una pinzetta o qualcosa di simile Che si mette qua sopra la fotocamera ed è tipo, fa diventare la fotocamera grandangolare Tutte queste cose, quindi molto, 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 cioè mi serve E questa cosa posso utilizzarla per il vlog che farò in Serbia Cioè, secondo me, visto che abbiamo un botto di roba da fare adesso in Serbia Un botto di roba da fare Modificare, modificare, modificare è la parola giusta La stanza, la stanza incredibile mastodontica in Serbia che ho Cosa sta facendo quel giocatore? Che poi io non vi ho ancora fatto vedere In realtà Però credo che la farò vedere Non so cosa succederà sinceramente per le live Perché ormai le live Non lo so, sto perdendo completamente la voglia Non per fare le live Ma quando sono da solo Non so cosa dire Mi impappino, mi blocco, eccetera Quando sono insieme ad altri Loro mi dicono Tanto c'è uno spettatore Chi se ne frega Posso dire tutto quello che voglio Eccetera, eccetera E Rompono le scatole così Quindi io non so Io sinceramente non so cosa fare Veramente sinceramente non so cosa fare Anch'io, ormai sto diventando anch'io Lo ero già Ma adesso sto diventando ancora di più Negativo, diciamo Per le live E ogni volta dico Vabbè, tanto c'è uno spettatore Chi se ne frega Tanto non ci sta guardando nessuno, eccetera Quindi non lo so Non so come sarà Come andrà avanti la roba delle live O addirittura se Se aggiusterà la parte live Mi sono auto La parte delle live Potrebbe essere una cosa molto Molto È molto delicata Diciamo Perché sono messo Malissimo A livello Di Voglia E di Di contenuti anche Perché se non ho contenuti per i video Tanto meno per le live Cioè io volevo fare diventare questo canale Più un canale di live Cioè di estratti live Che Video in generale Però adesso sto cambiando di nuovo idea Ormai non so più cosa fare Ormai non so più cosa fare Questi sono più video Più video ricordo Che video Video per far vedere la gente Perché io Tanto non mi guarda nessuno Ecco vedete Vedete subito Il tutto Il tutto La tutta l'indicatività Che mi pervade Eccetera Io avevo anche Fatto partire un podcast Che adesso È morto male Cioè non è morto male Cioè ancora però Non so Cioè so di cosa parlare Però non so Se farlo È un argomento Veramente delicato Poi non posso ancora Parlarne Non lo so Non lo so Non voglio morire Non voglio morire Non voglio morire Ho fatto un errore Pensavo di aver blocchi Pensavo di aver blocchi Che due palle Cosa Cosa Ho citato Scusate Comunque sì Il contenuto Della live Eccetera Non lo so Sinceramente Poi Stavo anche pensando Se in qualche modo Riesco a farmi tornare La voglia Trovare dei contenuti Eccetera Stavo pensando Magari potrebbe essere Una cosa molto divertente Provare Perché ormai Cioè io credo che Racconte Racconterò Questa storia So il prossimo video Da fare Almeno questo Cioè io I montage Dei video Mi piacciono tantissimo Da fare Ma se non ho live Da Da montare Che sono veramente Belle Da montare Eccetera Cioè Sono veramente Delle live Belle Che meritano Di essere montate Secondo me Non Non ha molto senso Ecco Questa storia Che voglio raccontarvi Adesso Sarà un video Uguale Con la stessa Identica Con lo stesso Identico Cappello Maglietto Tutto quanto Anche perché Lo registrerò Subito dopo questo E vi racconterò La storia Di tutte le mie Disavventure In Serbia Che voglio Voglio raccontarvele Voglio raccontarvele Sono molto divertenti Da raccontare Sono divertenti Da Cioè se le Dovrei rivivere Preferisco Non Non vivere Mi dissocio Eccetera Quindi sì Sta cercando di salire Il tizio Momento gameplay Signori Porco 2 Va bene Vabbè Quello che dovevo raccontare Credo di averlo raccontato Vi ho spiegato Le live Non ho contenuti Non ho voglia I video Voglia Ce l'ho Ma i contenuti Non ci sono Purtroppo Li troverò Comunque li troverò Magari Delle storielle Ogni tanto O cose del genere Potrebbe essere Una cosa molto divertente O cose così E basta Ho spaccato Ho quasi spaccato Il microfono E basta Vi ho raccontato Un po' Quello che mi sta passando Per la mente In questi giorni Cioè Sto per morire Degli cose Facciamo l'ultima partita E poi basta Credo Madonna i meteoriti Madonna i meteoriti Sei un pezzo Di schifo Ok Devo giocarmelo Sui meteoriti Ah ma Quello Meteorite Ok Ti stanno Scammando Tanti No 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 Mi sto spaccando sotto i piedi Oh no Ho finito i blocchi No Sono stupido Non mi toccare Non mi toccare Sono scemo Madonna Questa era Potevo anche andare bene Vabbè Per questo video è tutto Spero vi sia piaciuto Non so se lo caricherò mai Era soltanto un video sfogo Magari si Magari no Per questo video è tutto Spero vi sia piaciuto Per questa live Ci vediamo un giorno E basta Ciao